Sindaco Nicola Cristaldi, una giornata importante per celebrare attraverso lo sport l'impegno nei confronti di una realtà sociale di fondamentale importanza come la Lega Italiana per la lotta ai tumori. Lo sport è un mezzo straordinario per lanciare messaggi di interesse sociale e non c'è dubbio che quello della lotta ai tumori è un grande messaggio che viene lanciato costantemente da moltissime organizzazioni, fra le quali la liti che si contraddistingue per l'impegno quotidiano e mi è sembrato giusto che l'amministrazione comunale in qualche maniera sostenesse una iniziativa del genere per far capire alla gente che le persone quando soffrono hanno bisogno di sentirsi vicino agli altri e gli altri hanno il dovere di non isolare coloro che stanno male. Io credo che una partita di calcio di per sé è soltanto un gioco ma quando si riesce a coinvolgere tante persone intorno a questa stessa partita vuol dire che c'è una dimostrazione di vicinanza ed è bello, la nostra città si contraddistingue ormai da tempo su temi di questo livello. Quale messaggio trasmettere alla cittadinanza per avvicinarsi, come ha appena accenato lei, sempre di più a questo impegno? Beh innanzitutto facendo sentire proprio l'amicizia, il senso del rispetto per chi ha dei problemi e soprattutto cercando in qualche maniera di non lamentarsi quando le cose ognuno pensa che vanno male perché c'è sempre qualcuno che sta peggio. Le festività natalizie e lo sport per avvicinare tutti verso un impegno sociale così importante come la lega italiana per la lotta ai tumori? Sì, questo è un evento molto importante perché è stato organizzato in collaborazione di alcuni amici, di amici del bar, poi essere qui per un motivo così diciamo importante perché essere presente praticamente in un evento a scopo solidale è una cosa molto importante, comunque oggi questa giornata è destinata a rimanere nei nostri ricordi perché io ho avuto a che fare, sto avendo a che fare con gente con un cuore veramente grande, poi il periodo natalizio è molto favorevole, io volevo annunciare, volevo dire delle cose già sono notizie che si sono lette sui giornali però attraverso la prevenzione ci sono dati che hanno confermato che dal tumore al seno si può anche guarire e questa è una cosa molto bella e questa è la vittoria più grande Oggi è anche l'occasione per effettuare una raccolta fondi in favore della Lilt e lega italiana per la lotta ai tumori che ricordiamo tu sei testimonia Io da tempo sono sostenitore della Lilt però negli ultimi anni gli eventi mi hanno portato ad essere presente in questa manifestazione Oggi ci sarà una raccolta fondi a favore della Lilt sezione di Seracusa Io voglio approfittare della tua domanda per ringraziare una persona a me molto cara Si tratta del dottor Claudio Castobello, presidente della Lilt sezione di Seracusa e presidente del coordinamento regionale Quale messaggio poter lanciare a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo scopo e a tutte quelle donne che possono in questo modo poter prevenire un problema importante come potrebbe essere quello dei tumori al seno? Comunque questo è un discorso che ormai si fa da anni però la soluzione c'è Dopo anni di ricerche, anni di studi l'unico modo per poter sconvincere questo male è la prevenzione Come si articolerà la giornata di oggi? Oggi la nostra partita sarà preceduta da partite dove noi siamo rappresentati dai più piccoli Poi dopo che loro fanno la partita noi scenderemo in campo con il comune di Mazzarevallo Si tratta del gruppo dei consiglieri, assessori, sindaco, vicisindaco Io ho trovato veramente gente disponibile, gente aperta a 360 gradi perché trovare l'immediata disponibilità del comune di Mazzarevallo per un evento così importante mi fa veramente piacere Siamo con il presidente del consiglio comunale di Mazzarevallo, Vito Gancitano Oggi una giornata nei confronti di un impegno sociale importante come la lotta ai tumori e da festeggiare insieme ad un gruppo di amici che ama lo sport Sì, quando questo gruppo di amici mi ha contattato per organizzare e avere la disponibilità per organizzare questo bellissimo evento io subito a giro di pochi giorni abbiamo organizzato questo evento La lotta ai tumori Ogni giorno noi lottiamo, ogni famiglia lotta per ogni famiglia ha questo piccolo problema quindi noi siamo qua per sostenere questa cosa diamo un piccolo contributo Nei prossimi giorni questa cosa continuerà con i contributi sperando che questo possa servire a risolvere questa causa Io vi annuncio che dal prossimo anno questo memorial, questo evento sarà fatto ogni anno con maggiore partecipazione degli alunni, delle scuole e tutto Quale messaggio vogliamo lanciare a coloro i quali vogliono avvicinarsi alla Lega Italiana per la lotta ai tumori per, come dice lo slogan di questa manifestazione, prevenire e vivere Noi invitiamo tutti, anche questo fa parte della nostra missione come consigliere comunale, come amministrazione comunale perché ogni famiglia, ahimè, ha questo problema in casa quindi anche noi diamo il nostro contributo per risolvere questo problema Grazie a tutti